In tempi di austerità sempre più greci rinunciano all'auto, lunghe le code alle agenzie delle entrate, dove vengono restituite le targhe perché non si è più in grado di pagare la tassa sulla circolazione. Di fronte a nuovi sacrifici, gran parte dei greci guarda il nuovo anno con pessimismo, come rivela un recente sondaggio. Questo li spinge ad abbandonare quello che ora è diventato un lusso. Deposito la targa. Ho due auto, non posso pagare le tasse su entrambe. Non c'è denaro a sufficienza per pagare le tasse sull'auto, dobbiamo mangiare, pagare le bollette dell'elettricità, del telefono e altro. Ho depositato la targa dell'auto di mia figlia, disoccupata da due anni. 70.000 targhe sono state restituite solo nel mese di dicembre, si tratta di un aumento del 15% dal 2011. Due terzi di chi decide di liberarsene possiede un secondo veicolo. Grazie! Grazie a tutti.